ho sentito tante ottime analisi in giro della partita di ieri sera anche e soprattutto su youtube di persone che stimo però ragazzi una cosa non è stata sottolineata ed era passata anche a me per la prima volta l'inter ha avuto una gestione della partita ottima intera gestito la partita ha abbassato anche i ritmi in un certo punto della partita quindi è questo quello che mi fa sperare bene perché l'inter non era mai riuscita a gestire una partita in maniera diciamo ottimale ieri l'inter ha gestito la partita in maniera perfetta quindi se questa squadra impara anche a gestire le partite secondo me ci sono buoni presupposti per dar noia a chi vuole vincere lo scudetto anche perché ieri abbiamo battuto a mio avviso la squadra più forte per quanto poi visto che si cominciano non ho c'è la nuova proprietà dove vai non so mi ha scappato noi visto si comincia a cancellare le live ed è tutto qui dentro abbiamo fatto visto ci hanno dato di celtroni abbiamo fatto una raccolta delle ultime fake news prima prima le cancellino sono tutte qua dette da qui a quattro mesi fa abbiamo fatto ma ma guarda abbiamo fatto una mezz'oretta di lavoro abbiamo raccolto le fake news a pagamento ho detto negli ultimi quattro mesi sono tutte qua ma molte ancora le trovate ma affrettate cioè fate veloci perché sennò le cancella allora glass trust non esiste notaio gli avevano un notaio gli disse guarda la glass trust non esiste poi dopo glass trust esiste ma è un security agent già da qui capisci che no che ondeggiano non sanno nulla già da queste cose qui screen air blindato quattro mesi fa tutto qua ma per ora lo trovi ancora online screen air blindato nessun target per gli arabi in italia questa perla sei mesi fa infatti palermo l'ha preso un americano e l'inter infatti l'inter è già saudita dei sauditi e lui lo vedrà a breve ma lui ancora è uno dei pochi che non lo sa acerbi saltato acerbi saltato poi luca questa è una perla incredibile lucaque conte al paris saint germen digital beats tutto ok cialtroni e diano cose non sono vere infatti se visto mi pagava digital beats no se visto tutto l'incontrare di quello vi dicevano scrignare devrai rinnovano cinque mesi fa nessuna cessione dell'inter beh qui c'è il famoso zangra doppia ma comunque ragazzi la perla delle perle non è dissi che bisogna bisogna anche scherzare e riderci su queste cose qua la perla delle perle dopo il zangra addoppiava dopo le quattro due dirigenze tutto in 34 giorni tutto in 34 giorni la perla delle perle rimane sempre inter asta tipo celsi ciao